Buongiorno amici di All4Hunters e All4Shooter, io mi chiamo Alessandro Goggi, lei è la mia collega Sara Canala, siamo qui a DWA allo stand di Baschieri e Pellagri per presentarvi un progetto importante che si chiama Green Core, è la prima borra completamente biodegradabile e dà le prestazioni addirittura superiori allo standard a cui il cacciatore è abituato a sparare le cartucce con borraggi in plastica. In particolare ci concentriamo sulla Dual Bismut che abbiamo fatto in due versioni, Dual Bismut con contenitore e Dual Bismut con borra feltro e anche una novità in calibro 20, è una cartuccia con doppio strato di pallini con queste borre dalla tenuta e dalle prestazioni di balistica interna mai raggiunte da un borraggio tradizionale ma voglio passare la parola alla mia collega Sara che si occupa di programmazione polveri e tutta la nostra parte documentale per farvi capire cos'è stato l'impatto di questa nuova tecnologia sul mondo delle polveri. Sara, dici un po'. Dal punto di vista del propellente, come anche ha detto Alessandro, la tenuta di gas all'interno sia della canna sia del bossolo è perfetta, questo ha comportato la scelta di polveri propellenti più progressive. I test hanno comunque dato risultati ottimi e rispetto ad una cartuccia con borraggio in plastica tradizionale i valori, il picco pressorio, il tempo in canna sono praticamente perfetti. Sì, una sovrapposizione balistica a livello interno di balistica interna che si sovrappone perfettamente a quello dei vecchi borraggi nonostante si usi una polvera più progressiva. Da IWA è tutto, un saluto, alla prossima!